Questa terza prova, partiti! In vantaggio Alcantonia, poi per linee esterne avanzano Spiri Valley e Wind Force che vanno a condurre cavalli prossimi all'imbocco della piegata con Spiri Valley che di forza assume l'iniziativa nei confronti di Wind Force, per linee esterne Squidi, quindi Alcantonia che scivola in quarta posizione, quinta Beautiful Angelica, quindi Nea Ionia lungo la corda, per linee esterne Helodes, ancora Benez e Bertolfo. Gruppo comunque ben riunito quando si entra in addirittura d'arrivo con in vantaggio Spiri Valley per linee interne Wind Force, quindi Squidi, allargo Helodes, in anticipo su Beautiful Angelica, cavalli ai 350 conclusivi con Spiri Valley attaccata all'interno da Wind Force, allargo si profila anche Nea Ionia, la favorita per Varchi, avanza ora Alcantonia, passa in vantaggio Alcantonia scende lungo la corda, Alcantonia sorpresa su Nea Ionia e Spiri Valley, poi Wind Force. Alcantonia numero uno risolve questa reclamare, figlia di Turtle Island, Turtle Island e Pomezia, con in sello Giovanni Formica, trova un ottimo marco ai 250 conclusivi, scende lungo la corda e nel finale vince di tre in confronti della favorita, Nea Ionia, poi Spiri Valley, vantistrada iniziale, si mantiene terza, taglia terza al traguardo, successo per Alcantonia 18,76 la quota della vincitrice, al secondo posto poi il 6, numero 6 Nea Ionia, a seguire Spiri Valley, attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, linea che torna alla regia.